Valentino Sant'Elia, la particularità di questa tua macchina, una 146 un po' modificata? Questa macchina diciamola in parte modificata, addirittura nel cofano motore c'è anche una barradumi, evita il livellamento della macchina in curva e pericolosi, poi diciamo l'ho dotata di scatola nera, registra tutto, l'andamento della macchina, tutto, poi diciamo per quanto riguarda ciò ho installato i radar di super kit, super car e quindi insomma la macchina ci faccio dei raduni tra amicizie e cose, insomma stiamo un po' insieme, è la mia passione anche per quanto riguarda mia figlia Maria, le piace queste cose, è dotata di tutto questo sulla nostra macchina, considerate che lei dice che è la sua, comunque fra un annetto non sarà più mia e con tanto di rimpianti, perché è una macchina buona. La macchina è anche nera come la stessa macchina di David D'Astroff Latour? Certo, questa passione per super car kit mi ha introdotto lei, mia figlia, perché tanto che lei se lo vede con una certa energia a loro mi ha trasportato anche a me, stamattina ho visto anche delle puntate, è molto bello perché sempre che vedo la mia macchina, a me e mi hanno fermato parecchie volte, l'unica cosa che dicono è un po' appariscente, e va spero la macchina sta revisionata, tutto a posto, quindi non ho problemi. Ciao bello! Ciao amico! Identificati! Questa è la voce del computer che governa questa macchina, sigla internazionale KITT Night Industries 2000, kit se prese. Grazie! Sono io che ringrazio te, è un piacere eseguire un tuo ordine. Senti amico! Cosa posso fare? Facciamo benzina? Buona idea!